Anche Fabrizio Buricchi, assessore indipendente nelle due legislature del sindaco PD Doriano Cirri, potrebbe correre alle prossime elezioni amministrative di Carmignano. Potrebbe farlo a capo di una lista civica appoggiata anche dal centro-destra, che non avendo ancora trovato un candidato capace di mettere tutti d'accordo, potrebbe proprio per questo decidere di affidarsi all'attuale assessore alla cultura. Ma se Forza Italia ha già deciso, con la segreteria provinciale e quella comunale di Carmignano, che hanno approvato all'unanimità il sostegno a Fabrizio Buricchi, a questo punto manca solo l'ok del coordinatore regionale Mugnai, Fratelli d'Italia e Lega Nord stanno ancora riflettendo sul da farsi, con la prima che appare al momento assai poco possibilista sull'appoggio da dare a un candidato che negli ultimi dieci anni ha lavorato in una giunta di centro-sinistra con una forte prevalenza PD. Buricchi ha giochi ancora apertissimi, ringrazia intanto Forza Italia ma precisa. Per ora non ho sciolto la riserva, devo verificare la fattibilità dell'idea che ho in testa e cioè essere il candidato di una lista civica che vanti assoluta indipendenza dai partiti e che sia espressione di persone che vogliono bene a Carmignano, gente che ha voglia di mettersi al servizio del territorio senza dover mostrare niente a un partito superiore. Bene l'appoggio di tutti ma questo non si traduca in un vincolo. Buricchi deciderà a giorni anche perché il 7 maggio scade il termine per presentare le liste, sicure ad oggi solo quella del PD con candidato l'attuale assessore all'ambiente Edoardo Prestanti e quella del Movimento 5 Stelle che candida Andrea Bassini. È una decisione che voglio ponderare fino in fondo, commenta Fabrizio Buricchi. Non nascondo di aver ricevuto attestati di stima trasversali ma non può essere solo questo il motivo della candidatura. Ho bisogno di sapere che posso lavorare a un progetto di rinnovamento del territorio che sia solo ed esclusivamente frutto della civicità. Parto dal fatto che io non ho tessere di partito in tasca e vorrei contare su gente impegnata solo per il bene di Carmignano. Intanto lunedì prossimo a Firenze è convocata una riunione di tutto il centro-destra, mentre per forza Italia i giochi sono praticamente fatti, fratelli d'Italia e Lega Nord potrebbero correre unite con un loro candidato. Appare difficile la convergenza sull'attuale assessore della giunta Cirri.